salve a tutti ragazzi e benvenuti da shiver in questo nuovo video di minecraft siamo sulla hijoff engineering un modpack molto molto complesso dunque vediamo un pochino io volevo fare il lapis diamond tritato e quindi mi servirà appunto il diamond ho preso qui 20 pezzi usiamo il nostro bel piccono con super mega fortuna e vediamo cosa succede perché da 20 dovrebbero fare a meno 60 non lo so vediamo spero una 60 perché così a meno ha più senso di esistere vediamo un po se abbiamo fortuna quanti ne sono usciti ne sono usciti parecchi ne sono usciti quasi due stack bene sono felicissimo ok vado a fare queste cose che dopo vi servirà per fare questo quindi mi servirà anche dall'arresto adesso dai preparo i materiali poi facciamo questa mfe e chiudiamo dopo allora ho fatto un po di cosa ho fatto le piastre ho fatto un po di cavi non è che abbia fatto tanto alla fine questo ho raccolto un po di rubber qui sto facendo questa e qui ho finito questi che non so perché non me li stacchi e niente facciamo il nostro mfe ne volevo fare due veramente allora andiamo se riesco a farne tre forse dai facciamone tre così almeno ho un po di autonomia se no naturalmente non me li stacca ho fatto una bella cimet mi fa piaciore e vai con due questioni gli stacchi è molto strano ok ne ho fatti tre potrei farne quasi un quarto però no logicamente non li ho quando mai li ho quei cosi il ferro mi manca sempre non riesco a fare in qualche modo dovrà aumentare va bene allora di mettere a posto questo sì l'idea è quella però mi tocca fare un po di cose vero tac grazie così così qualcosa che non sia una merda nel senso che deve fare schifo o si può fare qualcosa di buono perché sapete ormai qua è un casino dunque in teoria da questa è l'uscita e l'entrata io i macchinari della fammela vedere perché io quelli macchinari dell'industria non è che andiamo proprio a braccetto è perché succede sempre che faccio casini non me lo ricorgo e dopo faccio le figure di merda è quello è una cosa che allora non vedo uscite allora c'è solo l'uscita qua l'entrata non la capisco come era messa la mia cosa perché alla fine sono uguali questa va dove c'è l'uscita e l'entrata è l'unica a provarla dai perché non si capisce un cazzo fatti di merda sti macchinari allora vediamo un po questo sono sicuro che va qua e qui non ci scappiamo questo sono sicuro che deve andare così ok adesso se io facessi una cacata del tipo ti metto quasi è bruttissimo non si può vedere lo so mi fa schifo perfetto esploso tutto carica carica eh però mi esploso il mondo porca miseria mi sono cacato in mano e mi sicuro questo qui cos'è perché non me le dice a me queste cacate che livello sono mi tocca fare un converter che è i c2 allora c'è quello normale che fa da 32 32 no questa c'è il pad e questo da 32 a 128 mi sembra che quello da 128 ecco questo qui che da 128 mi porti a 5 12 perché quelle tier 2 che 128 ecco perché ho sbagliato ho fatto una bella cacata beh sono contento va bene dai li faccio ragazzi purtroppo è tanto la figura di me dai li faccio sempre non è che è una novità insomma va bene rifaccio il trasforme da 128 e guardate i buchi che ho fatto e e dopo faccio il vario coso a dopo ebbene così abbiamo detto addio agli ultimi lingotti che avevo eh pazienza altronde non ve l'ho fatto rivedere ragazzi tanto l'avete già visto la tua volta era una cosa molto semplice tutto fare delle coil ho fatto un po di bronzo tanto di bronzo di rame che quello se ne abbiamo già visto in che dice l'avevo il ferro l'ho usato per fare questo questo ha fatto il circuito che era facilissima e buonanotte che era facilissimo perché tanto ne avevamo una maria di questa roba qua mi dispiaciuta è dispiaciuto però non ci potevo fare niente altronde ho fatto la cacata l'ho pagata è normale che succeda così vedete le avevo ma non è quello il problema perché ne ho fatti tantissimi il problema non è il materiale la scorciatura di fare le cacate è perché non mi informo prima e vabbè pazienza mai l'ho fatta e me la tengo allora dunque questa qui allora vi metterei lo so mi scorcia troppo perché è bruttissimo da vedere così se lo facessi un pezzo più basso mi eviterei di fare un po di cose per rifarlo un pezzo più o rifaccio questo più alto mi sicuro verrebbe farlo più basso questo però devo rifare tutto e c'è tanto da spostare se invece lo faccio più alto tanto qua io non ci devo neanche andare per essere dai lo faccio più alto vedo di come sistemano perché non lo posso vedere mi piange il cuore dai ci vediamo dopo allora ragazzi finita la figura di merda ho sistemato messo a posto mi sono alzato di uno perché perché volevo chiudere qui questi qui volevo spostarli e metterli qua o qua adesso vedo poi chiuderò tutta la stanza e qui metterò tutti i macchinari che vanno col tier 2 perché questo è un tier 3 io non l'ho trovato il tier 2 ecco perché mi è esploso pensò fosse un tier 2 purtroppo la mod porca di quella porca non mi dice esattamente che tier è non funziona normalmente dove avessi scritto sotto il tier tipo scusate non so la terma centrifuge guardate terma centrifuge se io ci vado sopra dove dice livello non c'è niente invece doveva essere scritto qualcosa e porca miseria porca miseria stessa cosa per questi macchinari dovrebbe dirmi che tipo di macchinari sono però 512 è un tier 3 purtroppo non lo sapevo cioè non ci ho fatto caso e tanti saluti vedete un 128 un tier 2 questa da 128 da 512 si lo porta 128 e purtroppo non c'era arrivato colpa è solo mia però se la mod funzionava come doveva sicuramente me ne accorgevo prima non importa ho dovuto usare gli ultimi ferri che avevo adesso meno male che abbiamo il nostro vador miner che mi ne ha prodotti ho messo uno stack da cosare più un po ce n'è ancora si può quasi uno stack si quasi uno stack alla fine oddio mi sono questo devo togliere perché è quello che è avanzato dall'altro stavo dicendo dov'è finito mi sono perso l'oro è qui è sì quasi un altro stack perché alla fine è passato un'ora dal da prima quando ho detto che ci vediamo dopo quindi un po' il tempo è passato però ragazzi in un'ora mi fai mi fai era mezzo stack quasi erano 20 pezzi io avevo 64 più 20 pezzi insomma 54 vabbè comunque sono qua i 64 ne ha fatti 128 perché la doppia logicamente però insomma il ferro io non so proprio come aumentare mi tocca andare a scavare per i fatti miei e non è che una cosa che mi piace molto mi piace più fare video che fare le cose off camera purtroppo cosa posso farci non è che posso fare sempre video che mi annoio e basta comunque avete visto come questo setupino funziona l'ho lasciato un po' scoperto così perché allora questo qui prima di tutto posso fare i conduit e passare da sotto faccio i conduit del lander io passo da sotto qui esco con un conduit e ci metto uno di questi così risparmio questi cavi qua ed è anche più bello da vedersi no che così vi dispiace però insomma dai possiamo fare sempre di meglio sembra da lontano che si fosse staccato ok consumiamo un pochettino di più però il vodorminer avendo passato al tier 2 da 800 me ne consuma 400 quindi abbiamo 400 in più e non mi dispiace la cosa poi diciamo sì alla fine sì dai siamo sopra dai non ci lamentiamo sempre lamentarci l'energia ce l'abbiamo e tanti saluti dai va bene così questo è l'importante e qui l'altro acceso l'ho messa qua quello che ho tolto prima e qui non abbiamo problemi allora questo è un tier 2 però alla fine dovrei metterlo la ma quanta energia vogliamo usare insomma abbiamo un sacco di batterie io mi sto preparando per fare il big reactor della cosa per fare la new new meter ma mi sa che buono adesso vedremo comunque dai chiuderemo faremo un po di macchinari qua adesso non mi ricordo quante ce ne voglio ancora perché stavo guardando lo steam boiler qua perché allora ci sono varie guide per fare per fare il oddio boiler per fare il perché devo fare assolutamente gli overclock dai cavolo andiamo un po più veloce possiamo per fare questo fluid queste cose per overclock che si vuole il overclock è scritto clutch e va a cagare scusate ci vuole questo il colant il colant si fa con lapislazzoli tritato poi insomma reso liquido ci sono vari modi o si fa il modo più lungo o il modo più semplice ma costoso volevo fare cioè il modo più lungo è costoso volevo fare quello perché usare l'aria l'aria riscaldata col boil l'aria riscaldata col boil dopo diventa colant a meno per fare un po più di cose dai io non ho problemi a costruire mi piace vedete anche voi qualcosa se voi magari non sapete io mi sto cercando di informare più possibile tramite sia video che wiki perché io non sono così bravo in minecraft però mi piace imparare quindi da informandosi qua e la tra i video e varie wiki imparo anche io qualcosa quindi impariamo anche insieme a me non mi dispiace e quindi proverò questo setup lo sto guardando lo voglio provare e ve lo faccio vedere fra poco sperando di non fare un'altra cacata insomma di soltanto ne faccio una video quindi ne abbiamo già fatta una quindi dovrei essere apposta fino al prossimo va bene ragazzi preparo lo prepariamo insieme dai prepariamo insieme tanto ci vuole il copper il copper lo stavo facendo allora per finire per fare quello ci vuole anche perché ho voluto utilizzare quello lo sapete perché perché qui avevamo due macchinari che non useremo più e la blast forest non useremo più ma l'electric heater serve da mettere dal boiler capite e quindi è già dato che ce l'ho e costicchia farlo insomma non è che sia una cosa tanto semplice la uso usiamola quello da riempire di coil per riempire di coil io ho preparato questo e naturalmente mi serve ancora il ferro il ferro per fortuna l'abbiamo fatto ma siamo un po messi male se ne vogliono due quattro sei ho otto adesso lo metto la france devo fare con l'elettrica di branch e buonanotte si metto la vrench faccio poco vediamo quanto c'era due quattro sei ah ce ne ho notato due quattro sei otto dieci coil vi ricordate che vi ricordate che le avevo usate tutte le devo rifare da capo che bello dieci coil per fare dieci coil mi serve dieci pezzi di ferro sia un fredentore maledetto lo sai ma penso che tu lo sappia bene quindi facciamo 7 e qua ne facciamo un altro po dove farne 8 9 così vediamo grazie molto gentilo allora aspettate che ci arrivo fare le cose fatte bene perché qui ormai 9 2 4 10 devo farne vero lo riguardo ma si sono 2 4 5 sono 10 quindi ne manca ancora un po ecco 7 3 6 7 8 mi servono e 9 si ci siamo ci siamo ci siamo tazziti va che ce l'abbiamo fatta ecco qua dieci staccano staccano meno male ok questa finiamo la vrencia e abbiamo potuto anche la vrencia benissimo allora questo e questo siamo a posto qui sono andato a prendere altro un altro po di ecco perché serviranno sempre adesso che li facciamo doppi i cavi ne servirà tantissimo li ho preparati non è difficile da preparare mettiamo uno stack tanto di oro grazie alla adesso ve lo faccio anche vedere come cosa ho fatto perché io molte cose le ho fatte ma non ve le ho dette perché poi mi scordo di registrare e purtroppo la mia fretta qui abbiamo la nostra bella farm ne ha aumentato un pochettino perché ogni volta ogni volta che raccogliamo uno abbiamo la possibilità del 10 per cento che droppi una un seme con tutti questi a volte ne dopo a 2 3 a volte 1 mi capita tanto anche 0 però quando li droppa io li vado a mettere a largo e tanti saluti alla fine avremo una farm di enderpelle che sarà esagerata più questa che intanto ce n'è da qualcuno io non mi lamento guardate allora non mi vanno questi perché non ho metamata allora messo il crashten e crashten cosa ho detto il trascan e un coso qui ignora metamata e non c'è modo di ignorare qualcosa vabbè devo mettere un oddio mi ha fatto prendere un colpo un item frame più grande adesso non lo fai vedere come fare vero diamo un po' filter no item frame un item frame più maggiore che questo si fa con gli usati di controlli si fa vabbè una volta che ho fatto questo ho più roba da mettere siamo a posto praticamente io ho filtrato quella roba e che non viene usata adesso facendo così posso prendere dopo questa roba metterla qua dentro che a sua volta me la va con la giacomo fondri e guardate quando due ferro quanti ingotti d'oro fatto perché li ho fatti perché guardate quanta armatura d'oro ci danno quasi tutto oro la maggior parte è oro queste non si possono usare purtroppo perché il cuoio non non è non va con la giacomo fondri quindi posiamo il trascan qui togliamo queste robe qua e tanti saluti 12 e non ce n'è altro non ne vedo altro opposto quindi questo oro qua dopo andando metterlo qua mi viene fuori un sacco di oro questo è tutto ferro dove questo questo sono ferri questi purtroppo non passano quindi si buttano è però dai piano piano facciamo facciamo questo è l'importante e fare andiamo pure via qui sta caricando qui adesso non carica perché notte dai ho fatto un po di lavoretti sono contento allora vado a fare il come ho detto per fare gli overclock quindi devo fare anche questa che mi servono i copper da fare quindi il copper da fare dovrei aver fatto delle piastre laggiù perché mi sono messo da fare eccole qua le ho fatte laggiù e adesso devo usare il martello che non mi ricordo più dove ho messo il martello eccolo qua questo martello per fare quelle plate è purtroppo 32 no sono troppe proviamo così aspettate perché io ho visto che ne avevo a queste bronze mi sono sbagliato quindi facciamo così poi facciamo così facciamo così e tanti saluti no bene mi piace quando le cose vengono bene cosa ho messo dentro così bene e le plate abbiamo detto che dobbiamo fare una di queste perché la devo mettere nel steamboil eh sì scusate ma purtroppo sono un po distratto ecco qua e adesso dobbiamo fare con l'iron 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 plate ce ne ho un casso perché porca miseria non c'ho mai ferro e qui è un vero casino io non so proprio come fare con questo cavolo di ferro se dovrebbero bastare ormai tutto uso a ferro e io e pensare che il ferro di solito è una cosa che ne abbiamo a fare questo per fare questo ci vogliono copper plate che li abbiamo e un po di rubber e abbiamo che questa allora copper plate facciamo 36 erano se lo sbaglio ok e facciamo che questo qui bene è fatta adesso facciamo lo steamboiler e adesso mi guardo la wiki perché non mi ricordo un caso e ci vediamo fra poco a dopo allora guardate ci vuole un altro macchinario che si chiama condenser e lo andiamo a fare per fare il buonanotte prendo sempre meccanismi circuit mi serve tutto ho qualcosa si ho qualcosa è questo qui poi mi serve il copper che ormai sta finendo anche questo mamma mia ma stiamo finendo tutto e cos'altro mi serve per fare circuito sono a posto quindi in teoria dovrei farcela cosa mi manca mi manca una plate e quando mai mi manca una plate ormai qui il ferro stiamo rosicando al massimo proprio è un circuito è posto poi stato ammattato uno scherzo di fuori che mi stava rompendo e mi ci vuole un altro 8 di questi dove sto andando 8 di questi mamma mia io non ce la faccio più stiamo veramente messi male a ferro non so più cosa fare e le coil dove ve le qua che ricordate che aveva fatte una vaga nata veramente tante mi serve l'iron plate l'iron plate quante ne avevo non le avevo le iron plate che bello li ho fatte tutte dai dimmi che ce le ho due non ne ho neanche una e vabbè li usiamo il martello non ho più spazio l'inventario che bella cosa togliamo queste che per il momento non ci servono siamo a posto ok abbiamo detto che è il martellozzo martellozzo grazie molto gentilo e andiamo a fare queste qui le iron plate ok rimettiamo il martellozzo a posto e che cavolo ok adesso possiamo fare finalmente il condenser dovremmo avere tutti i macchinari se non faccio cacate non dico chettinate questo è la fusel 4 vado a mettere un po a posto alimentare perché ne ho troppa di roba non riesco più a muovermi quindi ci vediamo fra poco vi faccio il setupino a dopo allora un'altra cosa che vorrei fare e provare perché non è obbligatoria però ho sempre voluto farla e adesso ne approfitto è un circuito adesso vi faccio vedere cos'è se no dopo non serve niente vediamo un po cir ui ce lo trovo forse mi sbaglio che si chiama così vediamo un po ic2 dove cavolo è che so che si fa con questo faccio prima fare così vado sopra scusate e ci vado sopra tanti saluti perché mi sa che si fa solo così si è questo che a sua volta si fa questo eccolo qui detector mi veniva nome o questo lo spit lo spit anche questo importantissimo adesso gli faccio tanto sono si fanno così non è che c'è tanto da fare sia questo che quell'altro perché devo controllare se era questo o un altro però dovrebbe essere questo perché altri non ne fai ne fai solo così per tre sono sicuro che quello per tre si dovrebbe essere uno è questo è sicuro sicuro se no questo è sicuro che però mi serve anche lo splitter lì tanto faccio quello sicuro così tanto non abbiamo problemi rubber 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 3 ma si facciamo 6 che ne faccio due così sono sicuro dai perché mi serve anche lo splitter tanto e si fa sempre uguale ecco qua questo qui è fatto poi da questo mi serve il bombastic lì come si chiama questo qua col circuito sei di coso e non li ho che bello vabbè tre qui due lì siamo cinque e sei rubber altre sei mamma mia quanta ce ne vuole di rubber ne ho messo un po da fare ancora o che bello l'ha fatta sono felice facciamo così facciamo così facciamo così e perché ne ho preso due in più non lo so cosa pensavo penso sempre altro quando faccio una cosa e quindi circuito circuitino dove sei così così e così vai una volta tanto che ci ho azzeccato mi serve una piastra di ferro e due di ferro sto sono preoccupato perché ferro ormai qui non so più come come usarlo non ce l'ho mi tocca andarlo a prendere e la resto purtroppo di solito la porta sempre dietro ma stavolta non l'ho portata dietro è purtroppo è così se ci volete fare adesso ne faccio uno e controllo bene se devo fare anche l'altro mi sembra proprio di sia così a naso però intanto faccio questo controllo e dico tutto allora sì dovevo farlo e adesso vi faccio vedere ho fatto il setupino che mi è esploso mezzo mondo perché mi era preso un corpo che avevo sbagliato una cosa ma adesso ho sistemato e quindi la figura di merda è prenotata allora vediamo il setupino è così praticamente queste cose riscaldano che vanno direttamente qua che questo adesso piano piano si riempirà spero a farmi il boiler prende l'acqua che dopo la trasforma al condenser che condenser nella trasforma in acqua distillata ok ci siamo il problema che io devo leggere qui con la calcificazione come poter decalcificare perché io non lo so come fare devo guardarci insomma questo cosa mi serve quando questo si romperà e come ce la farà 1850 miliardi di esplosioni per fortuna non si rompe niente però è molto fastidioso quindi andrò a mettere questo splitter qua così con una bella leva perché mi sono preso veramente un colpo prima porca miseria se mi sono preso colpo vediamo se l'azzecco non ci credo non l'azzecco mai va bene che ci volete fare la metto qua così così si staccherà in teoria non dovrebbe più andare a lamentare 3192 vediamo se invece faccio così mi sali dovrebbe staccare la luce in teoria credo penso non lo so non mi devo guardarci perché in teoria dunque la luce io l'ho presa da dietro devo guardarci bene mi sa di no perché io la luce l'ho presa da qua no non l'ho presa da qua dove cazzo l'ho presa la luce io non l'ho presa proprio devo ancora metterla ecco perché ho fatto una prova non ho messo ancora la luce e mi sembrava strano che non si alimentasse e infatti non va qua questo è l'altra figura l'ho fatta benissimo togliamo qua e togliamo qua perché io devo fargli arrivare la lusa qui quindi così 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 e così deve arrivarci la la luce so che è brutto vero si è brutto brutto in teoria doveva arrivarci però da qua peccato che non faccio il ponte non lo fa che la luce non arriva continuare 7192 non capisco perché allora vediamo un po come poter arrivarci senza far cacare l'unica da dietro qua è un po brutto ma tanto comunque non ci servirà tanto ragazzi io adesso l'ho fatto ma andiamo adesso e infatti sta andando si adesso li metto sto cacchi di splitter dove cavolo è splitter e lo metto qua e poi faccio una bella lava leva leva dove sei qua e la metto qua qua devo metterla devo metterla devo metterla allora devo chiudere se no non serve a niente qua 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 quindi se io adesso metto la leva in teoria qua oddio come come si muove sto coso e faccio così non dovrebbe più arrivare l'energia 70 59 60 no gli arriva ancora esatto perché quello passa da sotto sono invornito va bene dai faccio avete capito comunque devo staccare l'energia che gli arriva devo metterla sotto lo faccio e arrivo subito ecco qua l'ho fatto praticamente così lo vado a staccare così lo vado a staccare perché questo qui comunque consumerà tanto adesso è carico quindi non la sospetto poi quando mi servirà lo andò a riaccendere perché sono ovviamente mi consuma tanto è una schifezza visto così lo so è veramente una merda però le fasade devo vedere se funzionano perché io le avevo delle fasade pronte con queste fasade vediamo se funzionano ma ne dubito molto fortemente non funzionano figuriamoci se funzionassero le fasade perché mi sa che devo allora aspetta forse le devo ehm paintare vediamo un po' la paint ma dovrebbe essere paintate paint vizz mattone di pietro no sono già paintati niente non funzionano le fasade devo vedere se c'è qualcosa compatibile perché non si guardano da quanto sono brutte eh vabbè che qua è brutto mi fa cacare veramente cacare così non lo so devo pensarci se chiudere se non fare tipo così non si vede niente brutto come la diarrea vabbè però penserò vedrò tanto qui comunque ancora devo sistemare quindi non è che un problema così basilare bene abbiamo fatto e adesso con questa qua andiamo allo step successivo che si sta riempendo eh questa è una tank facilissima da fare eh ve la faccio vedere l'ho fatta un po' più veloce perché devo fare delle prove se no non eh non è difficile da fare infatti si fa così prendete un secchio eh prendete del quiet glass che si fa normalmente con la con la smeltery ecco smelte con l'alloy smelter eh del ferro poco per fortuna poi lo step dopo è con l'oro lo stop dopo è con la diamante tutto qua non c'è questa è la creativa non si può fare eh basta niente l'ho fatta a 16.000 16 megabacket eh 64 megabacket scusate e quindi non è male dai ce ne stanno parecchi e niente facciamo al step successivo ok l'ho sistemato meglio perché non si poteva vedere ragazzi prima l'ho fatto così praticamente l'ho messo qua l'ho collegato qui e quando lo voglio accendere guardate qui non c'è eh 45 66 lo accendo e adesso mi parte su 50 52 ok facciamo così se no veramente non si poteva guardare prima adesso è molto meglio bene continuo pure e ci vediamo dopo sapete che ci ho pensato alla fine lo scritto lo metto qua perché così posso staccare l'energia a tutti i miei macchinari eh senza nessun problema quando non li uso quando voglio usarli insomma non mi dispiace la cosa posso staccare ehm tutto quanto il blocco perché alla fine eh volendo ci sono questa che consuma fisso e questa che consuma fisso quando non non li uso li stacco da lì e tanti saluti non è male la cosa dai mi piace è brutto da vedersi lo so ma purtroppo le fasade non me le prende ehm è una cosa l'unica fasade che forse mi prenda vediamo se questa me la prende che l'avevo preparata perché magari questa funziona se funziona siamo a cavallo ehm magari se non mi prendi questo grazie molto gentilo no eh non me la prendi peccato sarebbe stato mi sarebbe piaciuto parecchio né questa fasade né questa fasade vero ehm è un vero perché l'hai piantata qua dovevi piantarla qua no non la pianta va bene dai troverò un rimedio in qualche modo ehm lo trovo non c'è problema tanto qua è collegata lì va bene dai ehm un modo lo trovo adesso per adesso facciamo così perché mi piace e dai vado avanti se no dico sempre che vado avanti non vado mai avanti bene ragazzi ho sistemato brutto come sempre però almeno ho sistemato ho spostato un po' di roba praticamente è successo così ehm quest'acqua distillata la faccio passare qui che andrà qui dentro nel fluid canning machine e qui potremo mettere finalmente le altre cose se vi farò vedere vedere nel prossimo video che ve lo spiego passo passo adesso ho fatto un video troppo lungo come al solito cerco di farlo più breve e il problema è che questa macchina ha dovuto spegnere da come l'ho spento gli ho tolto direttamente le coil potevo spegnere da fuori eh era la stessa cosa in pratica però li ho tolti perché mi ha scaricato tutte le batterie ha tirato tantissimo avevo tutte le batterie piene le ha scaricate tutte tutte non ne aveva e non era neanche al massimo dell'energia ma ne aveva scaricato tutto però mi aveva fatto un sacco di acqua mi aveva fatto parecchio erano 26 o 36 perché qui ci sono stati 10 o 16 bucket non ero esagerata 8 bucket sono stati quindi dai non male non male dopo vi farò vedere bene come settarla devo leggere bene anch'io e niente per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video di minecraft dalle angel of engineering così finalmente faremo gli overclocker e va bene ok ragazzi vi invito a lasciare un like e un messaggio se vi piace la serie e ci vediamo al prossimo video un saluto a Shiva ciao ciao